Ad Auschwitz non si fa la gita, si va. Ho visto una volta la televisione una decina d'anni fa un gruppo di ragazzi olandesi che andavano in gita, perché quelli andavano veramente in gita, ad Auschwitz e avevano un grande gelato. Avevano la musica nelle orecchie, e entravano a ritmo di quello che sentivano leccando questo enorme gelato. Beh, allora, cosa ho dovuto pensare? Che quei sei milioni di morti erano morti in vano. Non si va a fare la gita, si va in silenzio, si va come un santuario, a testa bassa, e cercando di ricordare, per non dimenticare la gita.